Pubblico di Element, buon pomeriggio e bentornati in questo episodio nuovo delle news settimanali. Qui con me per la prima volta Liliren. Ciao a tutti, grazie mille dell'invito. Anche ma come grazie mille dell'invito, per l'invito. Per la prima volta da dietro le quinte scosti la tenda e sali sul palco. Esatto. È giusto anche almeno una volta, no? Io personalmente, tornato diciamo da un paio di episodi d'assenza, saluto la chat nuovamente e devo dire che c'è un po' di ansia perché è un po' che non parlo in questo modo. So già che qualche minchiata la farò prima di iniziare con il notiziario e direi di lanciare la sigla. Let's go! Let's go! Allora, iniziamo con un probabile, anzi molto probabile ritorno, ovvero parliamo di Armored Core. Armored Core sta per tornare a quanto pare sembra proprio di sì, ed è una notizia a cura di God of Metal. Presente. Prom Software, sebbene ultimamente faccia parlare di sé soprattutto per i suoi famosissimi Souls e per l'imminente arrivo del chiacchieratissimo Elden Ring, si è lasciata scappare, per modo di dire, una manciata di screenshot riguardanti una sua vecchissima gloria, ovvero Armored Core. Con Armored Core abbiamo avuto tra le mani una serie di giochi tanto arcade quanto tecnici. A partire dalla lontana PS1 fino all'ultima iterazione, quella uscita su PS3, i giocatori si sono cimentati in uno sparatutto in terza persona, cofriva campagna single player, molto variegata e una modalità multiplayer offline. Lo scopo del gioco, oltre a quello di completare le missioni della campagna e della modalità arena, era quello di assemblare i propri mecha, tramite i crediti e gli unlock ottenuti in gioco. Avete capito bene. Non si trattava del banale pick del proprio mecha, ma di una vera e propria costruzione da fondo a cima. Iniziano dal tipo di gambe, poi salendo si andavano ad aggiungere tutti gli altri componenti come il torso, le braccia, testa, antenne, motore, sistema di raffreddamento, reattori, propulsori, sistema di supporto e infine, ovviamente, le armi. Tantissime armi. Per farla semplice, talvolta si poteva soddisfare i requisiti di alcuni preset semplici, per montare velocemente il proprio mecha, ma per gli smanittoni vi erano moltissime combinazioni a disposizione. La cosa veramente bella di tutto il pacchetto veniva fuori quando si dovevano affrontare le sfide più pesanti, dato che in questi casi era richiesto uno studio molto approfondito dei vari componenti delle macchine. Si andava dall'ottimizzazione del peso, alla precisione dei consumi di energia, alla quantità di munizione, alla velocità a terra, velocità in volo, eccetera. Diventava talmente cervellotico da non sfigurare di fronte ai più tecnici JRPG. Prendo un'esperienza veramente divertente e interessante. Tutto questo, per alcuni ben di Dio, è mancato per moltissimo tempo. Abbiamo avuto il frenetico Daemon for Maschina a tenerci caldo negli ultimi anni, che, con la sua unica intenzione di omaggiare la serie capostipite del genere, ci ha offerto un gameplay veramente apprezzabile aggiornato, più snelle e veloce. Ma l'atteso del ritorno del capo, forse, potrebbe davvero finire. Gli screenshot che sono saltati fuori offrono buone speranze al riguardo. Abbiamo due immagini nitide, ben lavorate e tipiche della serie, e altre, forse volutamente, censurate. Oltre a questi, ci restano solo altri piccoli indizi che citano alto livello di personalizzazione, azione dinamica tridimensionale e mondo sci-fi creato da Hitetaka Mizayaki. Può essere molto e può essere poco, ma tanto basta per avvivare la fiamma. Oh, allora, mi dicevi prima che Armored Core non è passato sotto le tue mani, no? Purtroppo, no. Ecco, bene o male in tutta la backstory che hai raccontato, grazie Seth, c'è un po' di tutto. Ecco, io ho avuto la prima volta Armored Core 1 tra le mani, grazie a una demo che c'era su PS1, e l'idea di poter manovrare quei robot tanto cicciottelli, quanto strani, quanto variegati, era... è stata veramente una... un colpo di fulmine. E poi pian piano il gioco si è evoluto e io mi ero fermato a quello per PS2 e lì c'era veramente da impazzire. C'era tantissimo, tantissimo, tantissimo. Cioè, si arrivava a dei punti, davvero, che se magari parlavi con qualcuno che, diciamo, era appassionato del genere, appassionato o comunque conosceva il gioco, si sembrava veramente di parlare fra meccanici. Cioè, dovevi andare a parlare di... tipo anche dei tipi di energia che consumavano questi robot. Era una cosa assurda, assurda, perché ce n'erano alcuni a decenn... cioè, era un po' come se fossero stati gli Jäger di... come si chiama? Pacific Rim. C'erano quelli, diciamo, digitali, quelli analogici, no? Alcuni potevano mettere determinate armi che assorbivano direttamente potenza dal core, altri invece c'erano il core separato dal generatore di energia, cose assurde. Era lento come gioco, effettivamente, perché non c'aveva la possibilità di guardare liberamente con lo stick destro, ma c'avevi i dorsali per guardare su e giù ed era follia. Tant'è comunque che è stata inventata una precisissima grip per il controller. Veniva tenuto tipo in verticale, tenuto a sta maniera. Era una cosa anche lì che faccia tanto, tanto scalpore. Comunque, tant'è. Qualcuno in chat conosce o, a parte Seth, che a quanto pare è ferrato in materia, conosce, ha giocato, ha apprezzato, ha detestato armor core? Ce lo facci sapere. Nel frattempo passiamo alla prossima notizia, no? Che mi snocciolo io, va bene? Va bene. Allora, la notizia è di K-Tom. Steam concede rimborsi straordinari per Battlefield 2042. Quindi, cattive notizie per gli appassionati della serie Battlefield 2042. Come molti già sapranno, sta attraversando un brutto periodo. Infatti, EA, il titolo di EA, ha progressivamente avuto un importante calo di numero dei giocatori attivi su Steam, fino ad essere sprofondato dietro al precedente Battlefield V, tanto criticato in fase di lancio. La situazione ha spinto molti giocatori a richiedere il rimborso su Steam, essendo il titolo esclusivamente multiplayer. Quello che ha dell'incredibile è proprio la risposta di Valve, che sembra aver accettato i rimborsi contraddicendo le proprie regole in materia. Infatti, sono stati restituiti i soldi dell'acquisto, sia i giocatori che hanno giocato il titolo per più di due ore, sia quelli che possedevano il gioco da più di 14 giorni. Riuscirà Battlefield, magari dopo qualche importante aggiornamento chiesto dalla community, a ritornare sulla cresta dell'onda o far risalire il numero di giocatori attivi? Vi teremo sicuramente aggiornati, esatto, visto che tanto se ne parla e se ne parlerà ancora. Sicuramente Battlefield lo ritratteremo. Ci si aspettava un Battlefield molto più grande. Ci si aspettava molta più gente che si sarebbe riappassionata al genere. Ci si aspettava veramente un boom quando si parlava di Battlefield 2042, ma i problemi che ha avuto a livello proprio di gameplay sono stati fatali per il gioco, perché da quello che ha visto, da quello che si vede anche tramite i numeri su Twitch, Battlefield ha avuto il boom inizialmente, come ci si aspettava, però il calo è stato tremendo. Però come dice Seth, ad esempio in chat, che le strade delle mappe a 128 giocatori, esatto, già quello lì, cioè di per sé è molto potenziale questo dettaglio, perché effettivamente ti dici 128 giocatori volano proiettili, bombe, esplosive, bombardi, cioè di tutto, è un Battlefield vero e proprio a 128 giocatori. Il problema è che magari davvero respawni alla base, ti fai 5 minuti a piedi, hai fatto praticamente un decimo della mappa, arriva il cenchino random o il pazzo sulla gipetta, ti stira, ecco fatto che tu devi sistematicamente ricamminare. Questo secondo me, bene o male, in quanto videogioco è una cosa che non può funzionare, anche se bene o male l'immersività, o comunque quello che può offrire, a livello di concetto potrebbe essere, anche se molto coinvolgente, ma in un videogioco secondo me questa cosa decade e appunto il fatto che l'abbiano ancora impostato a sta maniera o l'abbiano gestita così è sintomo proprio del fatto che hanno mancato il bersaglio secondo me. Ma comunque, dicevo prima, rimaniamo sempre in tema al Battlefield 2042 e la situazione diciamo diventa un pochettino più simpatica. Troppi bug per Battlefield 2042, anche gli hacker si arrendono. Articolo a cura di Cage, il caro Cage. Come vi abbiamo raccontato poco anzi, se il lancio di Battlefield non è stato sicuramente dei migliori, le cose per lo sparatutto di DICE non sembrano affatto essere in procinto di migliorare. Il già citato svuotamento dei server non solo ha spinto molti giocatori a chiedere una valanga di rimborsi, ma sembra persino essere riuscito a far desistere gli hacker facendogli appendere i cheat al chiodo per la disperazione. Uno dei maggiori fornitori di cheat per giochi multiplayer ha pubblicato, e non diciamo il nome perché sennò poi correte tutti a cittare, già c'è pieno di cittoni in giro, pubblicato un annuncio abbastanza chiaro a riguardo direttamente sul proprio server Discord. Nel post si parla di come il gioco continua ad avere fin troppi problemi di performance, i quali, a quanto pare, avrebbero un impatto significativo anche nei confronti dei cheat da loro sviluppati. Tale servizio era peraltro fornito a pagamento tramite abbonamento ricorrente e come sottolineato dall'autore del post, con i server che si svuotano di giorno in giorno, buona parte dei attuali abbonati non stanno neanche più giocando. Insomma, Battlefield 2042 sembra veramente essere giunto al capolinea. La notizia positiva, se proprio vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, è che se siete tra i pochi ancora sul campo di battaglia, probabilmente d'ora in poi non dovrete più avere a che fare con i cheater. Una magra sconsolazione, certo, ma pur sempre meglio di niente. Ok, questo è cercare di vedere, va bene, proprio il meglio in tutto, però questa è buffa sul serio. Questa è buffa sul serio. Sì, appena ho letto la notizia io speravo fosse fake. E invece no. Perché è troppo, è troppo. No, è tragicomica. E comunque sì, i cheat in abbonamento, e questa forse è la cosa peggiore di tutta la notizia, esistono veramente delle forniture di cheat in abbonamento, cioè uno paga in abbonamento magari lo streaming di film e serie tv, uno paga magari la fornitura di filamento per la stampante 3D, quindi c'è chi paga, ovviamente anche i cheat. Da parte di EA, tra l'altro nominata più e più volte, peggior software house dell'anno per tantissimi anni da fila, con l'uscita di Battlefield sempre si ributtano in campo, ma con questa volta veramente è andata male, è andata male, male, male. È troppo beggiore di così. Esatto, come può andare peggio di così, se neanche con i trucchi riesce a giocare per bene. Io posso pensare a GTA, no? Cioè i GTA, diciamo, dei PlayStation 2, in cui bene o male i cheat erano tramite una sequenza di tasti in game, però lo facevi da che finiva il gioco, e poi cominciavi a cheat, tanto perché inizia a fare del casino una volta finito GTA, tutto sommato. O te lo rigiochi con i trucchi, tanto per rifare la storia, diciamo, velocemente. Ma qui addirittura che gli aimbot e i wallhack e ste cose non funzionano addirittura perché il gioco non è fatto bene. No, è veramente incredibile. Incredibile davvero. Sì, ovviamente dovrebbe essere difficile sviluppare cheat perché il gioco è fatto troppo bene, non perché è fatto troppo male. Allora, ora passiamo a parlare di grandi, anzi, grandissimi, letteralmente grandissimi numeri. Infatti, Take-Two acquisisce Zynga per 13 miliardi di dollari. Questa è una notizia offerta da Azeras. Il gigante americano Take-Two Interactive, publisher di case del calibro di Rockstar e 2K, si prepara ad acquisire Zynga, società specializzata nello sviluppo di giochi destinati al mercato mobile, per la cifra mostruosa di 12,7 miliardi di dollari. Zynga è salita agli onori della cronaca dopo il boom di browser games come Farmville e Cityville, nell'ormai lontano 2009, integrati nella sezione giochi delle prime interazioni di Facebook. Zynga si è spostata poi nella direzione del real money gaming, giochi online con denaro reale come ad esempio Zynga Poker e dello sviluppo di giochi per smartphone. Ed è proprio questa la motivazione dell'acquisizione da parte di Take-Two, il cui CEO ha pubblicamente dichiarato di voler consolidare la posizione di leadership nel mobile, il segmento in più rapida crescita nell'industria dell'intrattenimento interattivo. Per capire meglio il valore del mercato mobile, basti considerare che GTA V ha generato 6 miliardi di dollari di profitto grazie alla sua modalità online a partire dal 2013, mentre Clash of Clans di Supercell ha generato 7 miliardi a partire dal 2016 e Arena Valor di Tencent addirittura 13,3. Grande Arena Valor! Pensando all'acquisizione di PopCap, sviluppatore del franchise di Plants vs Zombies da parte di EA e quella di King, legato a Candy Crush da parte di Activision, dobbiamo ancora una volta preoccuparci per il futuro del videogioco nella sua idea più tradizionale? Io ti rispondo subito di sì. Perché io, con i giochi da sciopponi, detto proprio grezzo, da sciopponi, io non li posso tollerare. Specie perché sono tutti veramente mobile o simili, anche browser game, bene o male Farmville, Cityville. Mi viene freddo al riguardo. Ma comunque, parlando seriamente, fanno un sacco di soldi. Fanno veramente un sacco. Cioè, 13 miliardi. Io non so neanche come si scrive 13 miliardi di dollari. Esti qua, take two, che anche take two mi sembra abbia prodotto GTA, no? Sviluppato da Rockstar, prodotto da, prodotto GTA, no? Correggetemi se sbaglio in chat. Perché anche... Quella capogine veramente. No, c'è Clash of Clans, S7 miliardi, GTA V, 6 miliardi. Nel senso che già il gioco offre tantissimo, offre tantissimo. Che addirittura con l'online la gente non è abbastanza. E online deve andare a spendere dei soldi. E dico Arena of Valor perché è la... La chiamerei così, diciamo, l'alternativa noob al League of Legends di turno. Nel senso che, meno male, su Switch arrivi, c'è il carinissimo Arena of Valor, che ti concede di zergare a livello 1, ti dico, ok, gioco della Madonna, però nessuno ha voluto mai giocarci con me, uffa. Giusto per curiosità, ma... browser game, giochi sciopponi, citando il termine di prima, te ne sai qualcosa? Ti sei macchiata di questo peccato? No, ancora no. Non so, magari in futuro potrei provarci, ma per ora no. Ok. Per ora rimango su altri generi. Meno male, meno male. Però generalmente, comunque come... Cosa ne pensi di questi giochi leggeri, diciamo, di passatempi? Perché tutto sommato sono dei passatempi troppo leggeri in confronto a un gioco tradizionale, appunto. Allora diciamo che i giochi leggeri sono quelli più legati alla massa. Perché è molto più facile che una persona non abbia il tempo da dedicare a un gioco molto più competitivo. Appunto abbiamo citato League of Legends. League of Legends è un gioco che ti porta via tempo, fatica, sanità mentale. Esatto. A differenza magari di un gioco molto più leggero. Quindi essendo più legato alla massa è legato anche ai soldi, dobbiamo dirlo. è facile spenderci dei soldi sopra anche perché il singolo individuo dice ma sì dai cosa ci butto? 5 euro e lo fai una volta a settimana, una volta ogni due settimane ci butti qualcosa e ricarichi un po' di denaro in game. Va bene, lo faccio io? Lo fai te? Lo fa quell'altro? Ecco fatto che tutto sommato esatto, vengono miliardi anche perché sono tantissimi i giocatori di questi generi qua. C'è su Facebook quanta gente sia impappinata su Farmville. È vero, è vero perché è facile accederci ed è facile interagirci. C'è un gioco mobile. Quanto ci vuole? Scusa, te arrivi, apri, sblocchi la tastiera, schiacci un'icona, sei già in game? E lì, ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt non ci vuole niente giocarci non ci vuole niente scaricarli e spesso volentieri non ci vuole neanche un centesimo a giocarli quindi è per quello che si diffondano macedonia non che sia un problema per carità nel senso così sembrava veramente esposta come se fossero una cosa brutta diciamo che mettono un po più in ombra il punto il gaming tradizionale io non sono qua a difendere il gaming tradizionale perché tanto anche il gaming tradizionale vanta di prodotti commerciali e come tali devono far soldi e prodotti commerciali rimangono quindi al di là di quello un po come si è parlato nell'articolo di resident evil sono prodotti commerciali ok la cosa che mi spaventa appunto potrebbe essere che le aziende che magari si occupano di produzione di titoli diciamo più giocosi magari vadano appunto a investire un progetto del genere perché se tanto loro alla fine della fiera devono fatturare saranno magari i giocatori che rimangono così in prima fila dai che esce dai che esce poi ci hanno in mano un pugno di mosche vedremo vedremo cosa ne pensi cosa mi dici allora io direi dal mio punto di vista il gaming è in continua evoluzione ed è in continua espansione il game noi siamo all'inizio noi stiamo guardando l'inizio del gaming come una cosa più tra virgolette di massa direi che non dobbiamo spaventarci ma ci sarà spazio per tutto diventerà una cosa così globale che ci sarà spazio per tutti c'è il giocatore di moda c'è il giocatore di browser games c'è il giocatore di fps io ovviamente per gusto personale rimarrò sui generi che ho sempre giocato rimarrò sui miei amati fps tattici così avanti ma comunque ci spostiamo adesso andiamo a parlare dei toxic player nella community videoludica xbox contro i toxic player articolo a cura di dama del silenzio non è di certo una novità trovare su un videogame multiplayer online comportamenti tossici a parte di altri giocatori per comportamento tossico non si intendono soli gli insulti vocali o scritti ma anche le continue provocazioni nei confronti di altri giocatori tipo il t-bag siano essi compagni o avversari in questo modo i videogiochi come valorant league of legends che tosse diventano sempre più luogo di disprezzo e la poca gente che vorrebbe apprezzarli per quello che sono un semplice svago ossia viene invece invogliata ad allontanarsi comportamenti tossici però sono stati riscontrati non solo da parte di utenti pc ma anche quelli di con dalla console effettivamente basta riprendere ripetutamente un tasto che ti alzi abbassi ed ecco fatto del t back è compiuto di questi ultimi al momento sono solo playstation xbox ne possono ne possedono una quantità impressionante ma come reagiranno le due casi in merito al problema per quanto riguarda il brand xbox philip philip spencer di recente ha affermato che la sua idea di deterrente per questi comportamenti sarebbe un ban globale ovvero un ban che non agisce solamente sulla piattaforma su tutte in contemporanea in questo modo si andrebbe ad arginare il problema fin dall'origine impedendo a quest'ultimo di continuare altrove ok siete accordo con l'idea di banare totalmente un player per i comportamenti tossici che ha in game parola a te lili devo dire che ne so qualcosa per esperienza perché nel momento in cui arrivo in game e io solo provo ad azionare la chat vocale con la voce di una ragazza ne ho sentite di tutti i colori ma davvero tutte le ho sentite io sono arrivato a un certo punto che ho dovuto togliere la chat vocale perché ho detto ok basta è un esempio è dai esempio gioco a valorant principalmente il mio gioco main gioco con altre ragazze cose del tipo siamo tre ragazze due ragazzi che ne so stiamo perdendo la partita io sono top flagger è colpa mia è colpa mia devo finire in cucina e nulla che devo che sto facendo in realtà la ragazza no davvero ti dicono che fai uwu oddio quelle tre lettere come non le tollero non posso tollerare uwu che chi è che se l'ha inventata sta roba dell'uwu perché dovrebbe fare cute dovrei fate cute cute kawaii uwu dovrebbero molto allora io in game sono molto molto seria cioè magari adesso sono un po cioè sono troppo in ansia però sono molto allegra in game sono molto seria soprattutto quando si tratta di valorant che ne sono anche su valorant seria col precise pulite cerco di fare il mio no che ne so to people city shut up perché perché vabbè questa è ignoranza dilagante genere allora è la prima volta che ho trovato delle giocatrici bene o male la è la prima volta che ho giocato online è stato con world of warcraft e trovare delle ragazze di tutto sommatico ok almeno la mia reazione è sempre stata a ok è una ragazza a differenza del normale ragazzo che trovi e cosa gli dici non è che c'erano certi elementi che come sentivano vedevano in chat sono andata a prendere andata con la a maiuscola davvero non ha il pene e se poi fanno è capitato no però a sentire sto discorso qua delle donne devono andare a lavare i piatti devono andare a pulire eccetera eccetera perché bene o male gli esempi di top player negli fps counter strike is related diciamo è un gioco da duri da uomini e voi non non c'entrate niente a quanto pare a quanto pare però va beh ignoranza a parte recentemente su valorant ci sono stati game changers ovvero un mini torneo dove si scontravano team femminili team femminili dei più grandi team al mondo quindi parliamo di cloud nine parliamo di g2 eccetera ok robetta insomma sì sì robetta tutte ragazze immortal e radiant cose cose mai conosce anche i loro nomi a seguire un esempio giuliano è una ragazza che gioca per le leggi due cose il nome del team ed era proprio su counter strike la chat perché è stato tutto streamato su twitch sembravano tutti pro player dalla chat e no non si picca così e no ha palesemente sbagliato e va bene se fatto un un torneo femminile ovvio che ci sono questi errori e voi chi non c'erano davvero davvero la gente commenta così pro player allora dovevi dire ancora qualcosa non so interrotto e allora generalmente questo è un problema diciamo dei dei giochi i cui tornei vengono streamati ed è forse tutto iniziato con dota e league of legends tutto sommato che i grandi mega tornei vengono streamati e tutti quanti dal pubblico anche presente in all'arena gli ecco costi così gonfiabili che tra l'altro personalmente ho visto lucca e devo dire fanno un casino incredibile quei gonfiabili cilindrici che schiantano insieme io purtroppo li ho sentiti utilizzare durante la finale del torneo italiano di clash royale ragazzi io ho assistito anni fa lucca alla finale di clash royale ma a parte quello è con questo fenomeno che bene o male tutti quanti quei giocatori che diciamo aspirano ad avere un minimo di notorietà che poi non ottengono mai spesso volentieri perché proprio sono quei giocatori che aspirano ad averla che non la ottengono che vogliono sentirsi dei pro almeno si sentono di avere la la portata mediatica di poter esprimere un commento che quello non è che gli viene negato ma un commento come se fosse appunto un top player e top player non ci diventi con dei commenti del genere perché la prima cosa probabilmente che ti serve per diventare top player è un minimo di umiltà e al parte il rent verso questi giocatori tutto sommato è un peccato anche vedere che non si risparmiano l'ignoranza anche a esprimere commenti del genere verso delle ragazze perché indipendentemente dal fatto che siano ragazzi e ragazzi sono comunque giocatori punto e non trovo trovo tra l'altro strano che c'è ma competono in giro in circuiti separati ragazzi e sui videogiochi non credo è stata allora diciamo che ad esempio i game changer sono stati fatti proprio per dare la possibilità ai team femminili di scontarsi tra di loro per far vedere che ci siamo anche noi e abbiamo altro di cui discuter riguardo a questa cosa che tra l'altro anzi io propongo diciamo a tutto il team di ris di ritornare sull'argomento diciamo chiamiamolo sessismo perché sessismo è perché secondo me è giusto riparlarne di questo anche per non diciamo rubare troppo tempo alle altre notizie per non diciamo monopolizzare la situazione però io propongo di ritornare sull'argomento ci passiamo nel mondo console parlando di ps 5 eletto compatibilità una delle caratteristiche più richieste a sony è sempre stata la possibilità di far girare sulle console della casa giapponese riusciti sulle console delle generazioni precedenti sony non ha mai dato una risposta affermativa alle richieste dei suoi utenti ma forse qualcosa potrebbe cambiare secondo un rumor girato su twitter mark cerny avrebbe presentato un brevetto riguardante un progetto di retrocompatibilità per l'attuale console di casa sony ovvero ps 5 fermo restando che esaminando il brevetto si scopre che non si parla ovviamente di macchine software specifico non viene fatto riferimento a nessuna console né a nessun gioco in particolare la notizia potrebbe essere sicuramente rilevante ad avere una certa credibilità se si tiene in contesto di relazione che sony pare essere pronta a lanciare nei prossimi mesi il suo servizio simile al game pass di xbox nome in codice project spartacus che potrebbe quindi essere il scusate che quindi potrebbe essere il viatico per permettere il possessore di una console sony delle ultime due generazioni quindi ps4 ps5 di giocare quantomeno in streaming ad alcuni dei capolavori usciti negli anni precedenti sulle altre console di famiglia la traduzione letterale del titolo del brevetto backward compatibility through use of spoof clock and fine grained frequency control ovvero retro compatibilità attraverso l'uso di una modifica del clock ed una regolazione fine del controllo della frequenza vorrebbe pensare a qualcosa di concretamente collegato a qualcosa che vuole in pentola da un po in casa sony quando venne fatta la prima presentazione di ps5 durante il primo lockdown una in particolare parlava di retro compatibilità con ps4 pro ps4 basi vedremo se buon mark cerny si è riuscito a trovare una soluzione per permettere alla miglia all'ammiraglia di sony di far girare anche i giochi per ps1 ps2 ps3 e magari psp sarebbe tanta roba e sarebbe tra l'altro l'ora che lo facessero indipendentemente dal dal successo che avrebbe la manovra perché penso spingere ancora adesso un utente c'è un un acquirente un cliente a comprare una vecchia console per giocare i vecchi giochi mi sembra mi sembra un po brutto sinceramente però penso che per una console come ps5 quantomeno possiamo chiamarla potente per la prima volta anzi dopo tanto tempo una console casalinga la possiamo chiamare potente visto che ps3 e ps4 non le erano avere la possibilità di essere una piattaforma onnicomprensiva secondo me sarebbe non solo una manovra buona da parte dei di sony ma sarebbe più che giusto ma proprio oggettivamente giusto esatto come recupera roba tipo da no crisis e silent hill perché magari collezionista il gioco su disco ce l'ha potrebbe giocarci o se no glielo metti in digitale su ps3 si poteva giocare metal gear 1 e resident evil 2 ad esempio cosa che ho scaricati come un bru e questo mi sembrava per carità lo paghi il gioco ok ce l'hai però tutto sommato ci puoi comunque giocare e non ci sono problemi nel farlo non capisco perché ps5 che potrebbe essere in grado di far girare praticamente un gioco di ogni console contemporaneamente in split screen perché non dovrebbe farlo e c'è i ps5 no allora mi sono fermata la ps4 per poi passare a pc bella mossa invece la ps4 lo ha sacrificata come per evocare il drago bianco occhi blu no da via ps4 e dentro ps5 se volete rosicare in chat bella esco è errore mio ragazzi ho sbagliato video che avete visto in sovrimpressione allora io invece visto che c'è se in chat che continua a volermi far fare quella cosa io vi invece vi cito l'articolo scritto da lui ossia riguarda rinvii del 2022 tra supposizioni e conferme siamo all'inizio dell'anno videoludico e già si parla di rinvii e questa cosa non la possiamo tollerare sebbene la situazione se sembra stia tornando alla normalità dopo le problematiche gli accumuli di ritardo dovuti al cobit meno 19 anche nel 2022 pare non sfuggire alle regole del vi ringraziamo per la pazienza ma abbiamo ancora bisogno di qualche mese bellissima questa frase da indiscrizione particolare rumors interni e prime conferme infatti anche in questa annata ricca di uscite che ce ne sono veramente un boato ci sarà un certo numero di produzioni che slitteranno in avanti nel tempo è il caso ad esempio appunto di stalker 2 di cui parlavamo prima che proprio qualche giorno fa ha visto l'annuncio ufficiale il suo rinvio a fine anno ossia 8 dicembre maronna nel 2022 e nel promettente si fu che passa dal 22 gennaio all'8 febbraio vabbè dai questo è poco come dicevamo prima oltre ai rinvii confermati ci sono comunque anche probabilità dovute alle finestre di lancio già intasate la produzione di tripla basti pensare che il nuovo sensore marvels midnight suns e vampire the masquerade swansong maledizione che 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 sciogli lingua hai scelto sef hanno presunto le date di uscita molto vicine ai giochi di cali del calibro di da in light 2 che mi ci spaccherò sopra gran turismo 7 horizon furbi nel west pokemon arceus e elden ring discusso poco elden ring se dovessimo essere sinceri dovessimo essere sinceri chi vorrebbe giocarsela faccia a faccia con aloi con gli amati pokemon e con l'ultima opera del maestro biazaki ovviamente non avremo mai certezza in merito nessun publisher nessun sviluppatore ammetterebbe mai che motivi del rinvio sono questi ma diciamo che il dubbio ci può stare e questo è vero in fondo serve meglio ammettere di avere paura dei rivali o di avere problemi tecnici di sviluppo o magari sarebbe meglio far uscire titoli monkey come è successo per nei recenti casi cyberpunk e battlefield 20 42 cyberpunk 2077 specifichiamo la scelta giusta non è mai facile da prendere in un mercato sempre più competitivo e che anno dopo anno richiede tempi di sviluppo sempre più lunghi ma in questo 2020 2022 così ricco di titoli non possa negare che tra qualche malumore siano comunque fiduciosi che questi rinvii possano migliorare la qualità delle produzioni che tanto amiamo però ci propone tantissime cose di cui discutere però ovviamente io scarico il barile a te vai allora appunto come parlavamo prima per stalker 2 all 8 dicembre che male al cuore allora da un certo punto ovviamente ci puoi essere tristi per tutti ok dobbiamo aspettare tanto dobbiamo aspettare tanto però meglio aspettare che ritrovarsi un cyberpunk 2077 sacrosanto piuttosto aspetto aspetto i mesi che devono passare mi arriva il capolavoro meglio che ok lasciamo lo facciamo uscire sappiamo come va a finire quando fanno queste cose molto male battlefield e ne abbiamo discusso per due volte poco fa nella lo stiamo ne stiamo parlando ancora adesso allora i rinvii rinvii io diciamo sono stato fortunato per questa cosa dei rinvii perché personalmente non perché ho passato un anno troppo impegnato e quindi tutto sommato non sono stato non ho maturato hype verso certi titoli e quindi il fatto che siano stati rinviati forse mi darà la possibilità a questo di anno di poterli giocare senza averli aspettati cosa buffa diciamo è che questa però il discorso è che se necessariamente vuoi piccare la data giusta per far sì che tu non sia troppo vicino a un gioco se non all'altro perché se no non vendi a roba del genere quello forse magari va intaccare i dati del al lancio no perché prima o poi se uno vuole giocare il gioco se lo gioca anzi magari aspetta che costi di meno per giocarselo perché nel frattempo si è dedicato a dell'altro è ovvio che uno va per preferenza e per disponibilità diciamo monetaria va a scegliere se si tiene i soldi per quelli quando esce sbam se lo chiappa si spacca su quello immagino che elden ring richiederà un quantitativo di ore che è smisurato probabilmente sarà una sorta di di breath of the wild però anche lì pokemon horizon forbidden west gran turismo 7 da in light 2 quale picchi ne picchi uno pian piano te li fai tutti a meno che tu non se stai lavorando non ti prendi un mese di ferie e praticamente torni che sei alieno o a meno che tu non sia un lavativo scolastico e quindi te li spacchi tutti dalla mattina alla sera io la penso semplicemente che se uno un gioco lo vuole comprare decide lui quando comprarlo è tutto sommato un gran titolo tantissima gente lo columperà sempre comunque l'unica cosa che verrà intaccata saranno appunto la quantità di quantitativo di copie vendute al lancio se saranno tutti troppo stretti tra di loro ma pazienza elden ring venderà anche fra dark souls sta vendendo ancora adesso mario kart sta vendendo ancora adesso elden ring non venderà fra sei anni ci credo ben poco credo ben poco allora io andrei a passare al a te la palla per l'ultima notizia tra l'altro a cura tua a rire di a rire di ovvio e le sguo allora allora andiamo in casa valorante il mio amato valorante che mi fa impazzire ogni giorno di più in realtà e parliamo dell'arrivo di neon con l'arrivo anche del del nuovo episodio neon così si chiama il nuovo elettrizzante agente apportato su valorante fps tattico targato riot games all'inizio dell'episodio 4 atto 1 velocità e mobilità sono le parole chiave del nuovo agente le sue abilità hanno portato a una rottura degli schemi standard per i giocatori dando vita a un nuovo meta dove il movimento è la chiave per vincere i round con neon infatti si può traversare site correndo per uccidere un nemico in scivolata cosa mai vista prima nel genere fps tattici riot games sa sempre come attirare il pubblico verso i propri giochi aggiungendo personaggi diversi divertenti basti pensare a come le abilità di neon assomigliano a zero il nuovo campione post in arrivo sul league of legends portando una nuova area di cambiamenti all'interno dei due videogiochi ed è guardando nel dettaglio le abilità del nuovo agente che capiamo realmente il suo enorme potenziale un doppio muro che blocca alla vista i nemici la possibilità di correre attraverso la mappa un raggio energetico che si divide in una doppia stan è un raggio elettrico che si trasforma in un'arma potentissima in grado di uccidere i nemici in pochi colpi insomma un nuovo inizio per valorante con un nuovo meta pronto a elettrizzare i player nella scalata verso radiant il radiant ossia al diamond il challenger il radiant e rank massi e la top 500 in pratica e rank massimo top 500 quanti sono i giocatori di viva sarebbe da andare a tirare fuori dati ok league of legends e non sbaglio ne ha 70 milioni neri neri arrivata l'on si giocare a valorato tutto sommato fai la stessa fatica che iniziare a giocare a league of legends e ti registri scarichi parti è tutto sommato c'è bisogno di niente giusto esatto perché nel senso la riot si sa vendere male questo si sa allora io mi sono lasciato andare un gesto col braccio va detto la scivolata ok che può essere tanto sconvolgente per il genere per il gioco perché effettivamente al massimo in quasi si corre si salta e ci si abbassa e ti dici ci aggiungi la scivolata quindi secondo me questo farà renderà il personaggio sgravato rispetto agli altri secondo me però c'è davvero la scivolata è una novità così grossa per un gioco del genere diciamo che valorant ha delle meccaniche in parte simili a cs esempio quindi si spara da fermi si si picca l'angolino ci si deve mettere nella giusta posizione si ci si ferma si canter strife si prende il si cerca di guantappare una gente che ti arriva in site correndo in scivolata con una mitraglietta ecco ribalta un po la situazione oddio perché effettivamente la velocità di movimento in valorant non varia giusto a meno che non metti il coltello e però tutto sommato è sempre stabile c'è accelerazione dovrebbe essercene un minimo però se ha sempre velocità massima in pochi frame giusto stessi il movici non c'è non c'è il movimento che vedi in altri giochi ecco per il motivo per cui appunto una persona che corre e particolare c'è la velocità massima la puoi avere camminando col coltello ok però è un'altra storia non è non c'è il tasto della corsa giusto non è no no questa voce c'è la camminata normale cielo shift che sarebbe quando non fai a ok quindi addirittura vai ok ok quindi a 0 il rumore dei passi esatto vai più lento poi a no con questa season ha portato modifiche alle armi molto opinabili ad esempio allora per chi non conosce il gioco c'è un'arma che si chiama et che in pratica una definiamo la mitragliatrice 50 colpi l'hanno baffata e adesso ti trovi la gente che ti entra correndo ti smitragli addosso 50 colpi si un po diverso dal prendono il vandal che sarebbe tra virgolette la cappa e certo di quanta parti ecco hanno cambiato un pochino però posso immaginare che effettivamente dal momento che si spara sempre da da fermi per appunto cercare di tenere il reticolo di mira il più stretto possibile davvero scivolare a sto punto quanto mi c'è dipende poi a che scivolati velocità scivola perché se tu riesci comunque a diminuire la dimensione della hitbox e riesci magari a passare con la velocità di corsa normale più piccolo da un angolo all'altro quando normalmente potresti essere un bersaglio facile già quello lì è un ottimo un ottimo vantaggio che può dare il personaggio però mi fa pensare che comunque diventa un auto peak o un auto ban per ogni partita classificata perché potrebbe davvero essere forse troppo forte rispetto agli altri allora in parte perché comunque la scivolata si può fare correndo e ne hai una quindi non è un apex dove saldi scivoli salti fortunatamente ok però ecco come si vede si vede anche nelle immagini valorant allora quando impari in pratica un po a sparare su valorant non ti viene subito dal traccare anche perché è difficile traccare punti al one tapare punti alle piccole sprayate ed è solo con quanto quattro colpi col vandal fai tre colpi alla volta non ti viene il fatto di trovarti questa che ti arriva crociata in scivolata e cercare di starle dietro con l'arma soprattutto se metti che ne so una stinger che in pratica una piccola mitraglietta che se da vicino scioglie cioè tu non hai tempo di capire che sei morto che già sei morto in pratica l'ultima quei due muri giusto no quella un'abilità un'abilità ok quello che vedi nell'immagine avevo il fulmine dalle mani quello insieme colpi ti uccide e a che velocità spara sette colpi due secondi oddio magari sono anche tanti perché a meno di un secondo a posto a meno di un secondo ok e allora effettivamente fila e cioè 76 e mi fa venire in mente non è il fucile shock ma il un'arma di quake tutto sommato in quake c'è ecco l'arma listo sono la sua ulti è quell'arma che tra l'altro anche in quake fa un boato di danno però deve essere molto bravo a traccare il bersaglio però quake ad esempio c'hai che la velocità del del bersaglio è molto molto variabile cioè non sempre si muove alla stessa velocità gli basta fare anche da fermo un minimo di di street jump è capace che ti scappa e ti si avvicina ad esempio deve essere molto molto e quindi sono ma it scan i colpi non c'hanno effettivamente la fisica del proiettile va c'è il colpo è it scan anche se tu effettivamente vedi un particellare che o un poligono che fa vedere che il proiettile cammina ma magari in realtà it scan indipendentemente dalla gittata se tu clicchi il colpo arriva in quel punto lì allora valorante da questo allora valorante da questo punto allora cioè sì però è pur sempre valorante mettiamola così nel senso cioè adif allora cs counter strike ha un allora quello che ho sempre detto non ha un patalo le armi di valorante non un pattern standard cioè alcune volte i colpi sono randomizzati sì nel senso è intorno a certa dimensione in base alla distanza sono dispersi in quel raggio lì cs hai un pattern fisso su valorante c'è anche la randomizzazione del colpo e quindi in base a quanto ti stai muovendo prima o se ti stai muovendo nel frattempo il reticolo varia sempre in base alla tua velocità no diciamo che è tutto abbastanza caso in realtà a bello uno sai quanti pausi sono partiti da eppure colpe a dentro posso immaginare purtroppo è un dettaglio quello che mi fa arrabbiare talvolta nelle fps nel senso è per quello che io prediligo gli arena perché se tu sai che il bersaglio cioè se tu stai puntando lì e il colpo è hits can o il colpo è a diciamo a movimento dico se punto lì il proiettile mi deve andare lì punto e random non lo tollerò nella maniera più assoluta guardate di pregare forse magari i fedeli i fedeli sono avvantaggiati forse i top 500 sono quelli che la domenica vanno più in chiesa che ne sai che ne sai anche anche l'oro citano sopra quindi ok per quello che tornano in chiesa comunque a regola se noi non abbiamo più cartucce da sparare io direi che per questa puntata abbiamo finito giusto è già allora io andrei e ringraziamenti ai saluti quindi io personalmente ringrazio te lili per aver partecipato aver co condotto questa puntata con me io ringrazio tutto lo staff di element che ha lavorato a questa puntata dalla stesura degli articoli alla preparazione del copione alla a tutto quanto è che niente se lo sono ricordati maledizione ad alta uffa vi dico ragazzi ringraziati gli uv è niente uv ci fa fare picco di ascolti ragazzi allora 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 io dovrei alzare la voce di un'ottava che poi un po di più no farla cute e così no ok internet questa è per te comunque detto questo e non aggiungendo altro lili ti ringrazio ancora un salutone caro a tutti quanti e lancio la sigla vado a prendere una coperta e scelgo l'angolo più buio di casa mia buon pomeriggio e buon weekend a tutti quanti chiudo buon weekend a tutti quanti e lancio il video Maledizione mi avete fatto dire UUU davvero.